Le atlete si allargano per la volata finale, dovrebbe essere seconda posizione la nostra rossa volante davanti la coreana Lee. Francesca Porcellato sul traguardo e terza medaglia di Monzo per Francesca Porcellato. Nella lunga carriera sportiva ci sono tanti successi, tanti insuccessi, perché comunque noi ricordiamo sempre le medaglie, le cose belle, però ci sono dietro anche tante sconfitte che forse hanno fatto uscire poi altri successi.